Ribaltone in casa Teramo salta la panchina di Giovanni Zichella. La vittoria sfiorata a Rimini non è bastata al tecnico di origini pugliesi per salvare il posto. Quattro punti in sei partite, zero vittorie, quattro gol fatti e sette subiti. Il presidente Luciano Campitelli fa trascorrere una domenica di riflessione e poi ordina la svolta, nonostante le rassicurazioni a mezzo stampa a due giorni dalla gara interna con il Fano. Il nuovo allenatore a Genore, Maurizzi, 54 anni, nato a Colleferro in provincia di Roma, buon calciatore di futsal, sport nel quale conquista trofei in campo e in panchina. Fa il salto nel calcio a 11 nella seconda metà della stagione 2007-2008, allenando la Massese in C1 al posto di Giuseppe Giannini. Guida poi la Scafatese in seconda divisione, decimo posto, la Cavese in prima divisione, esonerato, il Pergocrema in prima divisione, salvezza e play-out, il Viareggio, il Treviso e la Paganese, sempre nella stessa serie e sempre con il medesimo esito, esonerato. Nel novembre 2014 subentra sulla panchina dell'Ischia, portando i campani alla salvezza grazie ai play-out, negative le successive due esperienze alla Lupa Roma con due esoneri lampo. Lo scorso anno viene chiamato dalla Regina, conquista la salvezza diretta, ma nonostante un altro anno di contratto, Maurizzi e la società si salutano consensualmente al termine della stagione. Adesso l'occasione Teramo, c'è una squadra da portare alla salvezza, tirando fuori la grinta e la personalità che a Maurizzi non fanno difetto, cercando la prima vittoria già tra due giorni contro il Fano.